Sarà una gara difficile come tutte le altre che da qui in poi ci aspetteranno e stiamo lavorando bene come del resto abbiamo fatto fino adesso e faremo fino alla fine del campionato andiamo là cercando di giocare il nostro calcio e di sputare una grandissima partita Abbiamo fatto gli stessi punti fino adesso che nel ginone d'andata speriamo di continuare su questo ritmo che abbiamo intrapreso sicuramente non sarà facile e le partite nel ginone di ritorno sono sempre più difficili che il ginone d'andata, troveremo squadre che mancano i punti chi si deve salvare, chi lotta per obiettivi importanti però insomma come ho detto prima di volta in volta cerchiamo di mettercela tutta